Salve a tutti ragazzi, sono sempre mio Menzo e benvenuti in questo nuovo video di Style Powerball Quindi, noi adesso dobbiamo proseguire, dobbiamo vederci gli altri finali Andrò quando mi fare la prima scelta nella porta sinistra, proseguirò, ci saranno altre scelte, noi le vedremo tutte Perché vi voglio far vedere tutti i finali che più o meno io credo di aver inteso, capito dal gioco Quindi tutte le scelte che devo fare E quindi dai forza Ok, ok, eccoci, eccoci, molto, molto snelli E andiamo fino alla prima scelta Eccoci qua, signore, prima scelta E andiamo direttamente a sinistra e sentiamo cosa ci dice Tips on not getting fired, consigli per non prendere fuoco Non ce l'ha nessuno, neanche qui Everyone is unique, you most of all Ricordatevelo questo, signore, ricordatevelo Ok Ah ecco, vedete, qua c'è un'altra scelta Sopra e sotto, andiamo di sopra Seguiamo tutti i suoi consigli questa volta E poi ricordiamoci che dobbiamo andare di sotto alla prossima volta Ciao Siete che comode Molto, molto, ciao Ciao, va bene Eccoci qua, capo Buonasera Esatto, non c'era un cazzo di nessuno Spesso non so Stasmo, Stanley wonder in disbelief Chi orchestrato questo C clients on show Ma chi cazzo non so Stasmo, non so Che non può non avervano O che il chipad dietro del desk Guarda la terribile vera Che il boss ha preso da lui Quindi? Il teserino, lì 2845 5 scusate se lagga un po' ragazzi ma c'è dei problemi però comunque non è fastidioso stupefacente oh ecco madonna non l'avevo visto non l'avevo sentito neanche niente veramente ok non posso dare nessun'altra parte ottimo andiamo giù sembra Outlast come ti senti Stanley? sei bene? devi vomitare strano veramente ok vediamo adesso è un posto un po' terrificante devo dire la verità Mind Control Facility oh altre due scelte escape Mind Control Facility ok io direi di proseguire seguendo i suoi consigli quindi andiamo in Mind Control Facility vediamo un po' qua c'è un computer in mezzo a una stanzetta vediamo un po' che cazzo mi dice clicchiamo la luce la luce perfetta ah vediamo un po' che cazzo mi dice ah vediamo un po' non ho mai avuto questo problema nooo ognuno era controllato ognuno era controllato ognuno era solo un numero purtroppo l'abbiamo vista anche nella storia questa montazione orribile di credere che non potrebbe essere vero aveva Stanley veramente stato sotto controllo di qualcuno questa volta? era l'unica razza che era felice con il suo lavoro sbagliato? che i suoi emozioni hanno stato manipolato per accettarlo blindamente? purtroppo si purtroppo si eravate schiavi ragazzi miei eravate tutti schiavi no non aveva riuscito a crederlo non potrebbe accettarlo la sua propria vita in controllo di qualcuno il controllo di qualcuno mai era non pensiabile non era? era anche possibile? era veramente aveva avuto la sua tutta vita assolutamente blindo al mondo? ma qui c'era la testa l'esercito dell'operazione controlli con emozioni felici 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 cammini mangiare lavorare tutto questo monitorato e comandato da questo vero e come la realità del suo pasto inizia a in faciliti power bravo esatto bravo nooo un'altra scelta off and on cancelliamo tutto era tutto finito? speriamo yes si sei liberi se si vuole si fu una parte m momento lì solo operare per stata già esatto felicità dove andare, cosa fare o come sentire qualsiasi vita che vive sarà la possibilità di essere finalmente la libertà ragazzi finalmente la libertà era probabilmente l'unica cosa per sapere Stanley stai sull'opera eccomi bello bello questo finale mi è piaciuto molto si è ribellato scusate e si è liberato perchè è diventato di nuovo libero combattendo questa specie di mostro che gli stava sempre 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 sulla testa ora signori questo era un finale andiamo di nuovo nella stanza del boss però stavolta clicchiamo on quindi vediamo cosa succede se invece di chiudere tutto noi facciamo ripartire tutto andiamo eccoci qua signori finalmente off e on quindi adesso andrei su on succede io clicco on oh Stanley non hai solo attivato i controlli non hai dopo che ci hanno mantenuto tutti questi anni tu vai e hai cercato di prendere la macchina per te stesso è quello che hai chiesto controlli oh Stanley ho augurato tu esforzo davvero ma hai bisogno che c'è tanto che quella macchina può fare tu avessi lasciare prendere la macchina e lasciare se vuoi mettere la storia non sei mortale non sei mortale devo uscire devo uscire aspetta quanto tempo fino alla detonazione allora diciamo due minuti ma porco ah ora questo è non sei non sei non sei ma non sei 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 ne non sei non sei che non sei che stai Siamo riusciti a ogni seconda della tua vita inevitabile, dal momento in cui si trattiamo, fino al momento in cui io direi che è felice. Nel posto di controllo con scritto ESCAPE, quindi andiamo là. Eccoci qua signori, ESCAPE, invece di andare dritto dalla mind control, io vado in ESCAPE. Vediamo cosa succede. Madonna che corridoio. Minchia, come una morte violenta. Madonna. Sì, proseguiamo. Non ho paura della morte. Ma del buio sì, quindi mamma... Ok, perfetto. Ottimo. Ehi, mi butto, eh. Sono ancora qui in caduta, madonna. Merda. Cosa succede? Cazzo. Cazzo. Sono fuggito. Mi schiaccia. Porca puttana. Merda, merda, merda. Dai che lo superiamo. Lo superiamo. Lo superiamo, ragazzi. Merda, merda. Oh. Ma questa che cazzo è alla mamma? Madonna. Ma no, sono vivo. Ehi, boxes. Ok, andiamo qua. Sono vivo, ragazzi. The Stanley Parable. Proseguiamo dritto. Vivo e vedete, però... Vivo e vedete, però... making life the same. È vero. È vero? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Guardate tutti i quadri che ci sono nel gioco. No, per... No, guardate, ragazzi. Tutta la via. Tutta la via. Office. La via principale fino alla scelta delle due... delle due porte. Stanley Computer. Qua c'è la scelta della porta destra-sinistra. Oh, guardate questi due... C'è la scelta che vogliono un po' a un altro. C'è la scelta che vogliono un po' a un altro. C'è la scelta che vogliono essere liberi. Vedete? Vedete quanto bisogna un po' a un altro? Non, potremmeno non. A volte queste cose non possono essere vissi. Ma ascolti-mi. Tu ancora puoi salvare questi due. Tu puoi stoppare il programma prima che loro vengono. Pugge la scelta e la scelta. Non c'è la scelta che non c'è la scelta. Non c'è la scelta che vogliono un po' a un altro gioco. Non c'è la scelta che vogliono un po' a un altro gioco. Non c'è la scelta che vogliono. Mi ha disintegrato. Ok, quindi praticamente ci mancava semplicemente il finale da andare nella porta sinistra invece di andare sulle scale, andare di sopra. Quindi noi ci vediamo direttamente là, direi. Eccoci qua, fratelli. Qua ci sono le scale e andiamo di sotto. Andiamo a cosa ci dice. Qua non c'è nulla. Ehi, si può... Oh, una macchina. Eh, giustamente, perché dovrei... Dovrei... Eh, in effetti, potrei essere... Oh, merda. Sono matto. È vero, ce l'avevo già guardato. Vabbè, quello me l'avevo già chiesto. Eh, immagino, sicuro. So, è vero. Io voglio il mio appartamento, e la mia esposa, e il mio lavoro. All'altro che voglio è la mia vita, esattamente la forma che è sempre stato. Ma la mia vita è normale. Io sono normale. Tutto sarà bene. Io sono... Ok. Sto scappando con le mani nei capelli. Non so perché mi è venuta la pelle d'occa. Così, a caso. Questa è la storia di una donna chiamata Mariela. Mariela si è riuscita a un giorno come ogni altro. Si è riuscita, si è riuscita, si è riuscita i miei proprietari, e si è riuscita a un posto di lavoro. Ma su questo giorno, la donna è stata interruttata dal corpo di un uomo, che si è riuscita a parte della città, a parlare e a riuscita a lui. E poi si è riuscita a parte della città, e anche se si è riuscita a riuscita a fare un'ambulanza, per solo un po' breve momento, si è considerato che era un uomo strano. Era ovviamente un uomo, questo tanto che conosceva. Tutto il mondo conosceva come un uomo, e in quel momento, si è riuscita a essere di essere normale. Sto dicendo, sto in controllo della mia mente. Sto con lo che è reale e quello che non è. E poi si è riuscita a pensare questo, e in un certo modo, vedere che questo uomo ha fatto sentirsi meglio. Ma poi si ricorda la città che aveva preparato per il giorno, le persone molto importanti che le impressioni di lei affettano la sua carriera, e per l'extensione, il resto della sua vita. Non aveva tempo per questo, quindi era solo un momento che si è stoddata, guardando sul corpo, e poi si è riuscita e si è riuscita. Grazie, grazie sorella. Grazie veramente, sorella. Finito, signori. Abbiamo fatto anche l'ultimo finale, direi. Esatto, abbiamo fatto anche l'ultimo finale. Io, signori, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco, non si può neanche chiamare gioco. Questa era una miniserie, volevo farvi vedere The Stanley Parable, farvi capire di cosa si trattava. È un gioco, praticamente senza gameplay, dove tutto è basato su questa voce narrante, che ci fa comunque ragionare su determinati fatti. Normale, normale, abbastanza profondo. Ci sono stati dei finali che mi sono piaciuti, altri meno, altri che ho capito molto bene, altri meno. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, ragazzi. Comunque, voi sapete che nel mio canale io cerco di far vedere più cose possibili. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Anche queste cose strane, anche se non hanno molto successo, io sono contento comunque di farle vedere. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.